Se le chips di zucchine vi avevano fatto impazzire, queste di patate vi manderanno letteralmente fuori di testa. Che ci scommettiamo? Grattugiate le patate con una grattugia a fuori larghi, strizzatele benissimissimo e trasferitele in una ciotola. Aggiungete il sale, le erbe aromatiche, il parmigiano grattugiato e mescolate bene. Mettete una cucchiaiata di composto su una teglia rivestita di carta forno e pressatelo fino ad ottenere uno strato sottile e compatto. Una volta formate tutte le chips, cuocetele in forno a 180 gradi per 18 minuti, poi fateli intiepidire e... Ta-da! Avete sentito come scrocchiano?